Già ad una prima vista ci sono delle incongruenze che sono abbastanza palesi. Ancora una volta siamo qui a sottolineare il fatto che non si privilegia una soluzione di scambio ferro-ferro, anzi si stima l'accesso ad un'eventuale stazione a Rigutino per solo il 2% degli utenti stimati che sarebbero 1.400.000. Che è il più alto numero di tutte le soluzioni prese in considerazione, quindi l'altra incongruenza è quella che si privilegia comunque un bacino inferiore andando a scegliere Creti anziché Rigutino. Sono i due consiglieri regionali del Partito Democratico, Vincenzo Ceccarelli e Lucia De Robertis, a tornare sul tema della stazione Medio Etruria. Troppe le incongruenze in attesa di capire il perché della scelta di Creti. L'altro aspetto è anche la qualità dell'utenza perché con la soluzione Rigutino o anche Arezzo stazione attuale sarebbe molto più alta la percentuale degli utenti che si dirigono anche al nord. E poi ci sembrano i costi per la soluzione Rigutino eccessivamente sovrastimati. E intanto sul tavolo una soluzione temporanea in attesa appunto della nuova Medio Etruria, quella di potenziare il numero di treni ad alta velocità in transito ad Arezzo. Da subito, davvero da subito, secondo me questo territorio ha bisogno che dalla stazione di Arezzo si fermino più treni ad alta velocità, sia che provengono da sud verso nord, sia da nord verso sud. Perché rischiamo di perdere, con la scusa di fare la stazione da un'altra parte, rischiamo noi di diventare una stazione di serie B. Loro parlano addirittura ai 14 coppie ipotizzate nella stazione di Arezzo, ce ne sono tre, si raddoppino almeno, possibilmente anche di più, si diano la risposta a chiusi e nel frattempo il dibattito potrà andare avanti. Infine, i due consiglieri intervengono sul tema dei pendolari, dell'efficienza del servizio regionale e dei ritardi dovuti agli scambi con i treni ad alta velocità. Ma credo che per quanto riguarda i pendolari occorra veramente un cambio di passo perché il servizio dati alla mano è peggiorato. Questo è peggiorato rispetto ai livelli che erano stati raggiunti qualche anno fa e questo, al di là dei richiami e delle sanzioni, ha bisogno veramente di una scossa forte perché non è possibile che tutti i giorni riceviamo delle lamentele giuste, fra l'altro perché dati alla mano, basta andare a vedere quelli che sono i bonus concessi per i disservizi, sono raddoppiati e quindi c'è qualcosa che non funziona.